C'era un cartello bianco con una scritta nera. Diceva, sposeresti mai un italiano? Siamo stati a Berlino e oltre ad aver chiesto alle ragazze tedesche... Questa volta però abbiamo deciso di non fermarci a queste risposte e di dare la possibilità ai passanti di esprimere la loro opinione lontano dai nostri microfoni, in modo da essere il più sincero possibile. Grazie per la visione! In tutto hanno votato 48 persone, nell'arco di poco più di mezz'ora, fornendoci dei dati molto interessanti che andremo ad analizzare una volta raccolte tutte le interviste frontali. Sì, potresti mai marci un italiano in tua vita, in un altro vita? Sì, potresti, ma come non? C'è un italiano? C'è un'altra? C'è un'altra? C'è un'altra? C'è un'altra? C'è un'altra? C'è un'altra? Sì, ma come non? C'è un'altro? C'è un'altra? C'è un'altra? C'è un'altra? C'è un'altra? non è un po' italiano non è un po' italiano ha parlato inglese molto bene sì o no? questa è la risposta che stiamo cercando non perché non potete marci un po' italiano? solo non la lingua è bellissima hanno un'artica di vivere che si mangia e divertente e hai pasta e pizza e ti divertisci la vita e questo è molto piacente e molto diverso da Germania da dove sei? da Bologna sì, la Bologna era super bella il suono che hai fatto era incredibile ora un'ultima grande domanda per il bene del nostro made in Italy cosa pensano le tedesche del modo di vestire degli uomini italiani? sì, ovviamente tutti gli uomini italiani e se stanno bene come un uomini il mio capo è da Italia vedete? vedete? in Italia sì, in Italia il capo sembra molto bene ti piace? sì, mi piace ti piace hai un commento molto breve su come gli uomini italiani come gli uomini? meglio che gli uomini meglio che gli uomini le uomini sono molto bene quindi sono idoli per altre persone quindi gli uomini in nord sono meglio vestiti che in nord wow ok un po' di lezza conservativo un po' di... sì ti piace questo o ti piace un po' di più? no, mi piace molto molto fashionabile in realtà sì bene a questo punto non ci resta che confrontare i dati raccolti allora, davanti ai nostri riflettori ben il 95% degli intervistati ha risposto che sì sposerebbe un italiano mentre invece nell'altro tipo di votazione chiamiamola anonima questa percentuale scende fino al 70,8% interessante per fortuna però sembra che per le donne l'abbigliamento italiano conti al 100% e proprio a tal proposito ci permettiamo di consigliarvi Lanieri che sono secondo noi il perfetto esempio di 100% made in Italy e se vi interessa trovate il link qui sotto in descrizione scriveteci nei commenti quale domanda voi fareste scritta su un cartello con questo stile perché ci è piaciuto molto farlo lo vorremmo rifare e quindi leggeremo tutti i vostri commenti ne selezioneremo alcune andremo in qualche paese del mondo e ne faremo ancora bella